Noi sappiamo che è una stagione difficile, o dura, non difficile, ma penso che facciamo tutti di giocare sempre duro, insieme e poi vediamo cosa succede. Non so, forse un po', ma penso che siamo giovani e dobbiamo giocare così come una squadra giovane, con tanta energia e soprattutto in difesa, sì, vediamo. Lo meglio che conosco è Kaukenas, Siena, ovviamente Hickman, poi come amici amici non tanto ma Kaukenas. Ok, un ciao a Televideos Basket, ciao.